Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Napoli Allora quest'oggi concluderemo il mese di febbraio con la partita contro il Crotone e con la Sampdoria e poi arriveremo anche alla partita contro il Piemonte Calcio che andremo ad affrontare è partita molto importante perché è il ritorno delle semifinali di Coppa Italia occhio che all'andata gliene abbiamo fatte tre quindi teoricamente abbiamo un grande vantaggio ma come al solito raga prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, complessità e anche a seguirmi sulla pagina Instagram il link del profilo è sempre in descrizione detto ciò raga andiamo subito ad affrontare il Crotone siamo al Maradona, Crotone penultimo in classifica visto che la partita con la Sampdoria è quasi fra una settimana c'è tempo per recuperare ho scelto di mettere la miglior formazione possibile quindi Meret, Afonso Davis, Coulibaly, Gomes, Mucchelet, Fabian Tonali, Valverde, Insigne, Osimè e Lozano dopo tanto tempo finalmente siamo completamente al 100% con la formazione dei titolarissimi faccio qui gran palla recuperata da Mucchelet che pallino poi per Insigne che l'appoggia in rete 1-0 passiamo in vantaggio qui il Crotone si è fatto infiocchettare abbastanza facilmente mettiamola così segna il capitano Lorenzo Insigne che ultimamente sta segnando con una certa continuità devo dire ormai è bravo a farsi trovare sempre pronto qui comunque gran parte del gol va a Mucchelet che prima ruba un gran pallone e poi serve un ottimo assist al capitano che non sbaglia Occio Simen, bella palla dentro I Ciuqui, I Ciuqui, il Ciuqui col sinistro non sbaglia 2-0 raddoppiamo subito per il momento le cose si stanno mettendo veramente bene sembra una partita molto in discesa qui assist di Osimè stavolta e il gol è del Ciuqui Lozano gol molto semplice questo qui per noi Occio il Ciuqui Lozano che allarga col destro da Insigne, ancora il capitano andiamo un po' in aria vedi Occio Simen no palla retratta Occio Simen la butta comunque dentro poteva fare un bel colpo di tacco o qualcosa del genere ha semplicemente scelto di spaccare la porta anche da girato va benissimo lo stesso 3-0 segna anche Occio Simen l'assist è del capitano Insigne per Occio Simen che effettivamente è stato preso completamente in controtempo ma bravo sempre il nostro attaccante nigeriano e Occio ancora Simen vedi Valverde che arriva come un razzo bello il pallone e arriva il 4-0 questo gol l'avevo visto già tre ore prima appena ho visto Valverde che iniziava a correre ho subito detto questo arriva fino in porta infatti è stato così e ha anche segnato il gol del 4-0 riguardiamo infatti qui il movimento di Valverde che è completamente indisturbato arriva in pratica nell'area piccola del Crotone e poi col destro non poteva sbagliare Occio Ciuchilo Zano bello il pallone dentro però Simen Insigne è troppo defilato ma dagliela comunque e infatti la mette dentro arriva la doppietta del capitano però ha toccato anche il palo secondo me perché ha vibrato la porta praticamente comunque arriva addirittura il 5-0 però è veramente una passeggiata quest'oggi ogni tanto ci vogliono anche queste partite di rilassamento tra virgolette comunque alla fine Insigne l'ha messa dentro abbastanza facilmente l'ha semplicemente sfiorato il pallo e ok raga termina anche il primo tempo ma diciamo che si è conclusa direttamente la partita 5-0 all'intervallo Occio che non siamo ancora sazi calcio d'angolo tonali dentro però Simen anticipato ma c'è Ciuchilo Zano che la tocca per Valverde madonna era andato anche col sinistro Occio Fabiano clamorosa chance qui comunque stavo dicendo era andato anche col sinistro Valverde e nonostante questo essendo il suo piede debole era riuscito comunque a centrare lo specchio Occio va ancora Osimè Osimè va ancora da Insigne vai capitano per la tripletta vai capitano tripletta di la lenza Insigne che si porta il pallone a casa 6-0 contro il Crotone veramente uno sterminio quest'oggi però ancora un assist di Osimè che ne ha fatti veramente tanti oggi e poi Insigne che col destro qui veramente non poteva sbagliare comunque tripletta di Lorenzo Insigne e vediamo decimo gol cifra tonda tonda in campionato per lui Occio qui ancora che pasticciano andiamo un po' Insigne no perché il Ciuchi ok il Ciuchi si era tirato un attimo indietro doveva continuare comunque fortunatamente è riuscito comunque a calciare in porta 7-0 doppietta anche per il Ciuchi Lozzano comunque ricordiamo qui ancora Osimè che serve Insigne il Ciuchi si era effettivamente fermato un attimo ma il pallone gli è arrivato comunque la difesa del Crotone è veramente imbarazzante Occio no no ragazzi no gol del Crotone prima azione di tutta la partita arriva al novantesimo no ragazzi questi sono quei gol sono quei gol qui Colibali se lo perdi un attimo gli passa praticamente attraverso vai Colibali guardate qui cioè vabbè senza senso che sei riuscito a calciare così bene comunque ragazzi questi sono quei gol che mi fanno imbestialire come un cane cioè ragazzi una partita perfetta che cosa ci azzecca a sto gol cioè è l'unico e primo tiro che hanno fatto in tutta la partita 7 a 1 che fastido ragazzi non avete idea comunque sono curioso a sto punto eh infatti primo tiro unico tiro allucinante raga occhio raga non ci avevo fatto caso ci avevo la schermata avanti da tre ore il Piemonte Calcio ha perso perché sono firme a 62 la partita dovrebbe essere contro la Roma se non ricordo male perché abbiamo visto nella scorsa puntata infatti è proprio così 3 a 2 hanno perso occhio raga hanno subito anche tre gol buono per la differenza rito o comunque per i gol subiti per noi per vincere anche quella classifica occhio raga balziamo a più 5 attenzione è successo qualcosa di molto importante oggi ed occhio raga perché stare a più 5 alla venticinquesima quindi a meno 13 giornate non è per nulla poco poi se continuiamo con questo ritmo prendiamo veramente il largo occhio ragazzi che forse è l'anno buono che riusciamo a fare veramente qualcosa di importante adesso andiamoci ad affrontare la Sampdoria nostra ex squadra su FIFA 20 squadra veramente amatissima da noi ma soprattutto da me appunto grazie alla carriera del mio esordio tra virgolette comunque ci sono dei cambi perché fra due giorni abbiamo il Piemonte Calcio è vero che abbiamo vinto 3-0 all'andata ma mai cantare vittoria troppo presto e poi comunque i più forti sono in campo quest'oggi perché oggi ha una priorità essenziale no occhio qui da solo palo clamoroso Meret madonna qui clamorosa chance per la Samp improvvisamente mi sembra che fosse Damsgaard non vorrei sbagliarmi ma qui abbiamo restiato veramente tantissimo occhio scopo il Sen buona la palla dentro però Simen è un po' Simen bella forte dentro per Insigne che peccato se passava era col sicuro e ok raga fine primo tempo 0-0 all'intervallo occhio che è una partita molto più complicata del previsto la Samp è settima in classifica effettivamente lo sta dimostrando anche in campo non è per nulla una partita scontata questa facciamo attenzione ed effettivamente raga ancora che non siamo riusciti a calciare in porta e quindi mi raccomando è uguale di darci una bella svegliata occhio Simen ottimo rinsedimento vai la guerra col sinistro finalmente riusciamo a sbloccare questa partita riusciamo effettivamente a calciare in porta perché ancora non ce l'avevamo riusciti comunque 1-0 siamo in vantaggio anche quest'oggi bravissimo Simen qui a servire ancora Schlager dico ancora perché Simen sta continuando a fare assist su assist e comunque Schlager che col sinistro non sbaglia 1-0 faccio Fede Valverde può avanzare vada a Scovolsen faccio che la palla è buona Scovolsen proprio una finta gli riesce bravissimo Scovolsen vai tu col sinistro palla respinta madonna mia rovesciata improvvisa di Valverde madonna la stava per mettere dentro guardiamo di quanto è uscito questo pallone di pochissimo stava facendo il gol dell'anno bravo Turam qui gran palla rubata insegna dentro subito vai Victor di cattiveria che parata di Udero vi giuro che sono andato a botta sicurissima oggi ma Udero tiene ancora a galla la sua Samp ma occhio qui proprio Osimen anticipato occhio Turam buoni il tocco Scovolsen subito dentro da Udero 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 ancora Udero ma non è possibile che non riusciamo a raddoppiare quest'oggi è Udero che tiene a galla la sua Samp qui occhio ancora il calcio d'angolo Sima Cannano ancora Udero che para occhio Turam un altro pallone rubato bravissimo Osimen subito dentro da Scovolsen brutto pallone ma c'è ancora Osimen Valverde no troppi passaggi qui e si salva la Samp occhio raga che ormai siamo alla fine non facciamo brutti scherzi palla dentro fuori gioco bellissimo no ragazzi ma era fuori gioco non ci credo non ci credo non ci credo un secondo tempo completamente dominato non hanno fatto nulla effettivamente sembrava in linea e poi arriva questo gol a tempo scaduto non ci credo grazie FIFA come sempre però allo stesso tempo è un risultato estremamente realistico perché quante volte si vede una partita del genere partita che riesci a sbloccare con difficoltà vai anche molto vicino alla raddoppiare però alla fine subisci la beffa niente raga ci beffa ancora il finale secondo tempo totalmente dominato tutti questi tiri li abbiamo fatti nel secondo tempo loro ne hanno fatto solo uno perché stavano a 4 all'intervallo evidentemente era più che sufficiente uno e alla fine hanno pareggiato chiaramente è un risultato ingiusto però non puoi perdere tempo a piangere abbiamo troppe partite una dopo l'altra quindi non c'è tempo di far nulla con quella che mi dispiace veramente tantissimo perché soprattutto a seguito di quella sconfitta del Piemonte calcio che ovviamente ha recuperato subito vittoria contro il Parma visto che sono tornati a meno 3 vediamo sì 1-0 peccato veramente un dispiacere enorme perché potevamo continuare a restare a più 5 praticamente quindi un vantaggio sempre più positivo adesso siamo solamente a più 3 però ancora con lo scontro diretto da giocare raga c'è il rischio che quella partita contro il Piemonte calcio che giocheremo in campionato fra poco tra l'altro nella prossima puntata possa essere veramente il match point per una delle due beh sicuramente per noi molto di più è chiaro che prima abbiamo l'Inter se perdiamo punti contro l'Inter stiamo sempre lì allora la prossima puntata sarà uno snodo veramente fondamentale prima l'Inter che se battiamo anche loro sono decisamente tagliati fuori nero-azzurri e poi partire contro il Piemonte calcio e nel mezzo il Barcellona comunque adesso è fondamentale resettare tutto la delusione resterà ma non ci pensiamo più almeno per il momento perché semifinale contro il Piemonte calcio di ritorno all'andata 3-0 ci giochiamo una finale di Coppa Italia che è un'altra competizione che dobbiamo vincere a tutti i costi Ospina fra i pali visto che si sta giocando tutta la Coppa Italia poi difesa con Alfonso Davis sbotta Maggio Gomez Emerson Fabian Tonali Hermas al centrocampo e in attacco Bergwain Moisey Ken e Ciuchilo Zano occhio Bergwain vedi Ken che si inserisce tra l'altro Ken il grande ex della partita Moisey Ken no spara alto qui grande chance per passare in vantaggio occhio Tonali bello pallone dritto per dritto per Moisey Ken che la tocca molto bene per Bergwain che va col destro e la mette fuori clamorosa chance sprecata ma vai col sinistro a sto punto da quella distanza da quella posizione col sinistro è più semplice occhio che possiamo andare Tonali porta palle avanza vediamo un po' Tonali adesso per Moisey Ken gran palla tutto regolare Moisey 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 la piazza in porta 1-0 stiamo passando in vantaggio anche all'Allianz Stadium se vogliamo chiamarlo così comunque 1-0 gol di Moisey Ken gol dell'ex passato in bianco nero per la nostra nuova punta centrale italiana non mi ricordo gli anni però non da molto nel senso qualche anno fa tutto sommato ovviamente parlo della realtà comunque 1-0 siamo in vantaggio cerchiamo di continuare così perché la partita è sul 4-0 nel complessivo però la partita in sé solamente la giornata di oggi ci tengo a vincere comunque occhio gol di Sium Cristiano Ronaldo 1-1 arriva il pareggio del Piemonte Calcio peccato prima azione della partita ovviamente sempre così Artur che serve CR7 che lo marcava Joe Gomez Joe Gomez come la storia anzi era Emerson Emerson che gli stava dietro come al solito le marcature sono fatte così purtroppo non so se uscirà ma è un gioco con le marcature fatte bene comunque Spina rimane immobile e CR7 segna il gol della bandiera quindi è inutile che esulti così caro Cristiano ok termina anche il primo tempo peccato per quest'altro gol subito però vabbè finché lo subisci in Coppa Italia dal Piemonte Calcio da questo signore qua ci posso anche stare occhio Fabian siamo ancora in avanti tocco per tonale ancora Fabian che si ributta dentro vedi Bergwain che la mette fuori azione perfetta ma spara a lato occhio Moise Ken Bergwain è passato tira Bergwain Shesny pare ancora sarà calcio d'angolo ma stiamo giocando molto bene forza ragazzi palla dentro ancora per Ken anticipato da Delict c'è il Ciuchi Lozzano proverà lui il destro a giro mica male occhio qui ancora Cristiano Naldo la alza spina su via su vogliamo uscire un po' prima questa palla la potete anticipare tranquillamente hai delle mani usale sei un cacchio di portiere comunque occhio ancora a Piemonte Calcio che porta palla con Gaia c'è Elmas su di lui che gli ruba palla oggi che possiamo ancora ripartire Fabian avanza Fabian Fabian aspetta il movimento di Ken che arriva vediamo un po' Ken è passato vedi da quest'altra parte da solo no ma c'era Lozzano ma perché a Fabian madonna l'intelligenza artificiale raga doppio cambio per noi intanto esce CR7 e entra Morata comunque per noi dentro in signe per Bergwain e Valverde al posto di Elmas voglio vincerla questa partita occhio che possiamo andare Lozzano vada Moise Ken vediamo un po' è troppo defilato Moise Ken prova a girarsi serve il mio Valverde che si inserisce però il pallone per Lozzano non è male per nulla e arriva il gol 2-1 Napoli passiamo in vantaggio anche in casa loro 2-1 Ciuchilo Zano grandissimo inserimento bravi Ken e Lozzano a scambiarsi praticamente di posizione poi il Ciuchilo Zano addirittura col sinistro il suo piede debole è riuscito a battere Cesni sul suo power guardate qui ovviamente siamo andati tra virgoletti sul sicuro con questo tiro come al solito c'è più possibilità di far gol comunque siamo di nuovo in vantaggio 2-1 adesso tutti dietro è perfetto arriva anche il fischio finale 2-1 vinciamo anche in trasferta all'Aliance Stadium felicità massima per i nostri tifosi visto il pareggio in campionato serviva una vittoria d'impatto come questa qui siamo in finale di Coppa Italia e affronteremo una fra Roma e Inter ok ragazzi adesso andiamo anche a vedere visto che la partita si è giocata un giorno dopo rispetto a noi quindi ancora doveva disputarsi comunque vediamo un po' Coppa Italia finale Roma Napoli alla fine la Roma pareggia in casa 1-1 e si conferma contro l'Inter e quindi affronterà noi in finale finale che teoricamente si disputerà allo stadio olimpico di Roma meno tradizionalmente è così comunque alla fine su FIFA tecnicamente noi e la Roma abbiamo lo stesso stadio quindi siamo in casa secondo me comunque ovviamente non ci pensiamo la data della finale sarà il 19 di maggio quindi c'è tutto il tempo tra l'altro prima avremo la Lazio in campionato spero che qui con la Lazio già abbiamo risolto tutto e quindi abbiamo già vinto magari il campionato e quindi posso fare turno all'estremo con la Lazio e far giocare la miglia squadra possibile con la Roma ma ovviamente è troppo presto per pensare a tutte queste cose ok ragazzi siamo arrivati al giorno della partita contro l'Inter restiamo a più 3 sul Piemonte Calcio rispetto all'Inter restiamo a più 9 sì è proprio così quindi questo vuol dire che un'eventuale vittoria oggi a San Siro sarebbe veramente il colpo del KO allo stesso tempo però loro sperano di vincere addirittura per mantenere vivo il sogno scudetto perché in caso di vittoria andrebbero a meno 6 rispetto a noi e sarebbero teoricamente a meno 6 anche dal Piemonte Calcio nel caso vincesse e se paradossalmente perde il Piemonte Calcio l'Inter va a meno 3 quindi raga questa partita questa giornata è uno snodo veramente fondamentale e quindi partita che vedremo nella prossima puntata come già detto prima affronteremo anche il Barça all'andata vittoriosi 3-1 e poi affronteremo anche il Piemonte Calcio raga la prossima puntata è troppo troppo importante non potete veramente mancarla quindi raga io per l'appunto oggi posso fermarmi qua vi do a lasciare un like un commento ma soprattutto riscrivervi al canale e seguirmi sulla pagina Instagram noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti iscriviti al canale grazie a tutti